I dati ci confermano una situazione in crescita, ci confermano una grande presenza di giovani, ci confermano una grande attenzione e un grande dinamismo di questo mondo. E naturalmente per noi questo significa avere un'opportunità, poter immaginare che questa forza cresca e pesi e cambi anche il contenuto qualitativo della sua presenza, essendo non almeno nella nostra prospettiva un elemento che arriva a posteriori a riparare problemi sociali che si sono prodotti, ma essere un protagonista che all'inizio interviene nella definizione delle dinamiche sociali e delle dinamiche economiche e quindi evita che i problemi si producano. Quindi io credo che ci sia un cambiamento di ottica che per quello che riguarda il governo noi abbiamo intenzione di promuovere attraverso le nostre politiche. Noi siamo conventi che intanto bisogna affermare un'idea, bisogna sostenere una cultura, bisogna convincersi che le logiche di fondo che hanno costruito le dinamiche sociali e le dinamiche economiche vanno cambiate. Poi il Parlamento fa la propria parte con le norme, il governo altrettanto, ma qui sono in campo gli enti locali, qui sono in campo il volontariato, l'associazionismo, quindi c'è anche un tema di approccio da parte degli interessati. Quindi prima affermiamo una cultura, prima affermiamo un'idea di società, dentro questa idea di società la realizziamo attraverso i procedimenti. Uno dei questi è quello a cui stiamo lavorando, che è quella di produrre le condizioni per cui chi ha ricevuto un aiuto, un sostegno, un atto di solidarietà da parte della comunità si senta personalmente in dovere di restituire qualcosa alla comunità che gli ha dato una mano. Io credo che questa sia prima di tutto una risposta che avviene sul piano personale, non credo che queste cose le risolviamo con le leggi e gli obblighi. Le leggi e gli obblighi vengono dopo, prima vengono le volontà e le scelte che gli individui fanno in coscienza, dentro la loro testa e nel loro cuore. Se noi continuiamo a pensare che le robe le risolviamo con un decreto, gli effetti io credo che li abbiamo già visti.